Iniziamo a conoscere l'albume, che è un vero prestigiatore, un trasformista. Può essere semiliquido, solido, trasparente e opaco, e può aumentare 8 volte di volume inglobando aria. Ma con un primo esperimento ci occupiamo intanto del guscio. Lo liberiamo dalle membrane, lo tritiamo e lo mettiamo in provetta con aceto. L'effervescenza indica che sta avvenendo una reazione chimica tra il carbonato di calcio del guscio e l'acido acetico. Si forma acetato di calcio e anidride carbonica che costituisce il gas liberato nella reazione. L'anidride carbonica, essendo più pesante dell'aria, cola su una candela accesa, sottraendo l'ossigeno e spegnendola. Se soffiate con la cannuccia in acqua, le bolle non si formano, perché l'acqua, che ha un'elevata tensione superficiale, preferisce avere attorno altra acqua invece di aria. Le proteine dell'albume invece riducono la tensione superficiale dell'acqua e impediscono alle molecole di H2O di stare solo con le loro simili, permettendo così di incorporare aria. Si formano delle belle bolle, dalle eleganti forme geometriche. La stessa cosa accade con altri tensioattivi, come i vari saponi e detersivi. Con un secondo esperimento scopriamo che l'albume contiene proteine. Si usa una soluzione azzurra di solfato di rame che si unisce a un'alcalina di idrossido di sodio e tartrato di sodio e potassio. Introdotto l'albume nella provetta, compare subito un colore viola intenso che indica la presenza di proteine. Si è formato un composto azotato complesso di cui fa parte l'azoto proteico. Naturalmente, se la concentrazione di proteine fosse più bassa, il colore sarebbe più tenue ed è su questa caratteristica che si basano i metodi colorimetrici per valutare la concentrazione proteica. Concludiamo con la ricerca del pH dell'albume. Esistono molti alimenti acidi, cioè con un pH inferiore a 7. Più il pH si avvicina a zero è più una sostanza è acida. Ci sono invece poche sostanze alimentari alcaline, cioè con caratteristiche opposte e pH maggiore di 7. Qui vedete la cenere, che però non si mangia, poi il bicarbonato e appunto l'albume. Più il pH si avvicina a 14, più una sostanza è alcalina. Useremo come indicatore di pH un estratto di cavolo rosso e vediamo che succede. Aggiungiamo limone a una provetta di albume. Il cavolo rosso assume una bella colorazione fucsia che indica acidità. Nella seconda provetta aggiungiamo cavolo rosso ad albume, tal quale. Il colore questa volta è tra il verde e l'azzurro e indica pH alcalino. Nel prossimo video produrremo le meringhe. Potremmo fare meringhe verdi a questo punto usando il succo di cavolo rosso. Oppure meringhe fucsia aggiungendo anche succo di limone all'albume prima di mettere l'estratto di cavolo rosso. Ma il gusto di cavolo sarebbe orribile. Meglio usare altri polifenoli indicatori più gradevoli, come quelli del succo di mirtillo.